Serena Bertone lunedì sarà una pasquetta particolare perché si gioca il penultimo turno di regular season, il Valle Soverato ospita a Marsala con l'obiettivo di riscattare la sconfitta di Mondovì e anche di prepararsi al meglio in vista dei playoff. Sì, passeremo la nostra pasquetta, però dobbiamo fare tre punti assolutamente e fare una bella partita perché dopo la partita di Marignano dobbiamo riscattarci. Ci avviciniamo ai playoff che sono ormai un obiettivo raggiunto ma anche una post-season che sarà molto intensa, il campionato è stato molto avvincente e faticoso però adesso vi dovete preparare al meglio in queste due settimane anche in vista soprattutto dei playoff. Sì, sì, per ora stiamo pensando a queste due partite, poi dopo la partita di Chieri penseremo ai playoff che sono tutte partite dentro fuori dentro fuori quindi dobbiamo andare al meglio ogni partita. Marsala è una squadra che avrà sicuramente tante motivazioni perché è ancora in lotta per la salvezza e quindi ha necessità di fare punti per continuare a sperare. Sì, sicuramente dobbiamo partire aggressive su tutti i palloni sin dal primo punto e non mollare verso la fine. Coach Barbieri, penultimo turno di campionato, nel lunedì di Pasquetta si affronta in casa il Marsala, una squadra bisognosa di punti per cercare di arrivare alla salvezza, da parte del Soverato invece playoff raggiunti però l'obiettivo è anche riscattare la sconfitta di Marignano di domenica scorsa. Sì, non vedo un fatto di riscattare perché abbiamo preso un punto, un punto importante che ci ha concesso di arrivare ai playoff che è un obiettivo che avevamo dall'inizio e arrivare con un certo anticipo per poterli preparare nel migliore dei modi. Perciò vedo un 3-2 che non è così male perché siamo cresciuti anche rispetto all'andata. Sì, incontriamo Marsala, una squadra che dopo l'arrivo della Perri comunque ha fatto dei buoni risultati perché ha sistemato anche il ruolo di opposto, perciò sappiamo, siamo coscienti che per loro è una partita decisiva, perciò a livello mentale giocheranno al 110% e noi siamo convinti di fare altrettanto. Ecco, presentiamo proprio Marsala perché a dispetto della classifica è una squadra che comunque oltre ai punti conquistati ha dato del filo da torcere a tanti avversari nel corso di questo campionato, una squadra combattiva che cerca sempre di giocare fino all'ultima palla. Sì, è una squadra molto fisica perché è una squadra molto dotata, molti centimetri, forti a muro sicuramente, ma guarda che però diciamo ha avuto qualche incertezza e noi è lì che dobbiamo, dobbiamo battere bene e soprattutto ricevere bene per comunque andare sempre a aprire il loro muro perché se si gioca contro di loro con un muro sempre piazzato non è sicuramente semplice. Infine facciamo un passo indietro, torniamo alla partita di Marignano, un punto conquistato su un campo difficile, possiamo dire che probabilmente è mancata solo, se così si può dire, la stoccata decisiva sul 2-0, comunque una buona prestazione della squadra? Sì, certamente perché quando si è sopra 2-0 si ha sempre un po' l'illusione di poterla chiudere, invece loro sono stati bravi, hanno avuto una mentalità di gruppo, di squadra, hanno lottato comunque ogni su ogni palla fino alla fine, devo dire che però il tie break si è giocato, abbiamo giocato molto bene, si è giocato punto a punto e si è deciso per un paio di palle, perciò sono anche contento dell'aspetto di crescita nelle difficoltà che ne avevamo parlato e giocare un tie break così è un bel segnale per il futuro. A proposito di crescita, queste due partite finali di regular season possono anche servire per provare eventuali nuove soluzioni in attesa dei play-off, quindi per preparare al meglio questa post-season che sicuramente sarà faticosa come lo è stato il resto del campionato? Sì, come abbiamo detto, noi volevamo arrivare al play-off, volevamo arrivare con un certo anticipo e non volevamo arrivare con la spina della riserva accesa. Cosa vuol dire? Vuol dire sia a livello fisico non essere stressati, sia a livello medico perché magari si portano dei giocatori al limite e poi se arriva il play-off il giocatore magari va in difficoltà. Noi stiamo bene, adesso stiamo lavorando su entrambi i fattori, sia comunque quello della cura dell'atleta che quello fisico e contiamo di arrivare bene, di non arrivare cotti nei momenti che contano.